La Fondazione Il Cuore si scioglie Medici Senza Frontiere insieme per una nuova campagna a sostegno dell'emergenza umanitaria dei migranti. Per quelle due o tre persone distratte che probabilmente ancora non lo sanno ricordiamo cos'è Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere è un'organizzazione internazionale medico-umanitaria composta da svariate migliaia di persone che contribuiscono con il loro lavoro sul terreno a rintuzzare delle crisi umanitarie importanti nel mondo. Situazioni di crisi acute ma anche situazioni di crisi molto più croniche dovute alla povertà, alla carestia o a dei conflitti di lunga durata. Come si opera in questi territori? Si opera con molta difficoltà, sempre di più, nel senso che la sicurezza è una parte importantissima del nostro lavoro. Lavoriamo spesso in condizioni difficili, estreme, in paesi a volte ostili, in cui l'esempio forse più chiaro è quello della Siria, in cui abbiamo operato direttamente con vari ospedali fino a gennaio del 2014. C'è stato un rappimento, ad esempio, dei nostri cinque colleghi internazionali e da quel momento in poi abbiamo lavorato solamente per remote control, quindi inviando il materiale logistico e soprattutto sanitario a più di 150 ospedali senza però avere l'opportunità in questo momento di avere un operatore internazionale all'interno. Quindi situazioni molto complicate nelle quali appunto aumentiamo il nostro entusiasmo, la nostra attenzione e ovviamente con la solidarietà di moltissimi privati, perché ricordiamolo Medici Senza Frontiere, per esempio in Italia, non raccoglie nemmeno un centesimo da fondi istituzionali. E veniamo nel dettaglio al sostegno della Fondazione Il Cuore Si Scioglie, destinato alle attività di Medici Senza Frontiere e diretto al campo di Idomeni, situato al confine tra Grecia e Macedonia. Il progetto prevede una prima parte di contributo a Medici Senza Frontiere per l'impegno che loro portano avanti sul campo, ma anche una parte molto importante a cui teniamo molto di informazione, di diffusione delle notizie in una maniera alternativa a quella che ci viene presentata visualmente dai giornali e dalle televisioni. Quindi il racconto di chi vive quelle situazioni, di chi vive non solo il campo di Idomeni e quindi le 12.000 persone che sono lì in attesa di un miracolo, di un'apertura delle frontiere che chissà se avverrà mai, ma anche dei contesti dai quali scappano queste persone. Medici Senza Frontiere conosce le realtà da cui queste persone scappano e le motivazioni che portano lì queste 12.000 persone, di cui il 60% sono sotto i 18 anni, sono minorenni. Quindi è chiaramente una situazione molto difficile dal punto di vista sociale anche da mantenere in condizioni decenti. Ecco, quindi l'impegno della Fondazione vuole andare sia sul sossegno concreto alla realtà di domeniche che non si chiuderà nei prossimi giorni, che andrà ancora avanti anche se noi smetteremo di parlarne. Ma oltre a questo vuole portare a una consapevolezza più ampia delle persone di quello che sta succedendo e delle condizioni in cui degli esseri umani che hanno la stessa dignità umana di noi sono costretti a vivere. Allora, in conclusione parliamo anche di quella che di fatto è la donazione di fondazione. Sì, partiamo con 50.000 euro di contributo dato immediatamente per tutte quelle che sono le necessità di base di un campo come i domeni, quindi le tende, l'acqua, il cibo, le coperte e poi lanciamo un'ulteriore raccolta fondi. Vogliamo arrivare ad altri 50.000 euro entro il mese di dicembre, entro l'anno 2016, da aggiungere ai primi 50.000 per arrivare a un totale di 100.000 e per i quali facciamo appello a tutti, ai cittadini, ai volontari, ci sarà modo di donare sia online che di persona ai banchini della fondazione e l'obiettivo è appunto contribuire con una cifra importante al funzionamento del campo di domeni. Quanto è importante il contributo della fondazione Quaresi Scioglie? Per noi è fondamentale sia dal punto di vista strettamente economico, questa è ovviamente la cosa più lampante, la seconda ed è una cosa altrettanto importante è perché i soci vogliono fare un cammino con noi, un cammino fatto anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ai temi dell'immigrazione. Spesso e volentieri il termine migrante viene utilizzato nel nostro paese con toni molto dispregiativi e viene recuperato politicamente anche per fini elettorali, per cui è importantissimo fare un tratto di strada con la fondazione e con l'Unicop per raccontare alle persone in giro quello che vediamo veramente, non solo le cifre ma soprattutto le storie umane, umanizzare questa situazione, proprio per non correre il rischio di fare come molti che generalizzando parlano dei temi dell'immigrazione come un fardello, come un problema, come qualcosa che blocca lo sviluppo di questo paese.